Partenza di questa finale ragazzi 12 massi, ricordo sui mila metri, adesso al sesto giro sentirete la campana e da... 1-3-6-7 prima posizione La campana, dal prossimo giro siamo in punti, forza ragazzi, dal prossimo giro fino a lungo andiamo in punti, tutti al primo e al secondo, nel continuo giro siamo in punti 3-7-7 3-7-7 3-7-7-3-4-5, i punti del meno 4 3-7-4-5, i punti del мало 9-3-7-8, i punti del meno 3. 3-7-7-3-4-4, i punti del meno 2. 3-7-9-3-0-1, i punti del primo giro, ultimi punti per il primo e il secondo e il terzo. Forza ragazzi, questo è il finale! E' il numero 3-7-7 che chiude la gara in prima posizione senza contare i punti naturalmente. Quindi il pool grandissimo perché la base del primo Megalea è fatto. Un bel piano. 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 Un bel piano.